Io abito qua vicino, ma è poco tempo che l'hanno aperto. E da un po'? Sì, sarà un mese, dieci giorni, non so. Stupore e meraviglia in via Rielta a Mestre per il Cannabis Store, aperto da tempo eppure invisibile agli occhi di quanti, ci passano ogni giorno. Io non l'ho mai visto qua aperto, sì che passo di qua. Il negozio, manca a dirlo, si chiama Grace, come la famosa pellicola L'erba di Grace. Due vetrine quasi spoglie, se non fosse per i colorati, bonghi esposti dentro. Tutto il kit per chi vuole svappare con la sigaretta elettronica o crearsi quella fai-da-te, con la classica cartina, che come la tornasole, manca a dirlo, eppure questa d'origine vegetale. Con la canapa venduta, che per legge ha un bassissimo contenuto di THC, ovvero meno dello 0,6%, con importanti effetti ansiolitici e sedativi, assicurano dalla rivendita. Se è legale, paga le tasse, se le hanno dato il permesso di aprirlo, ben venga, nel senso, sarà molto meglio che quei quattro spacciatori che ci sono qui dietro all'angolo in parco. Io penso che sarebbe stato meglio anche per l'altra droga, perché così ci sarebbero meno delinquenti in giro. O no? Quindi lei dice che vanno tenuti aperti questi esercizi? Non lo so, se questa non fa male, perché ho sentito per televisione che l'adoperano anche a fare delle cure adesso. Ho dolori, ma non prenderò mai una droga. Capisce signorina? E cosa ne pensa del fatto che gli hanno fatto aprire quei negozi e poi gliel'hanno fatto chiudere subito dopo perché mancava il bagno? Perché hanno sbagliato a farlo aprire? Questo è il discorso. Lei cosa ne pensa del fatto che è stato chiuso questo negozio perché mancavano i servizi igienici per il personale? C'è chi che ha fatto bene a chiuderlo. Mi so contraria a tutti i negozi che già ha e tutta che roba.